La nostra avventura, vedete, Milan-Verona, Verona-Milan under 15 Bente Godi, stadio Bente Godi, andiamo a seguire i ragazzi Vediamo se c'è qualcuno di questi stronzetti del Milan che mi seguono Qua c'è il parcheggio del Bente Godi Stasera vengono qua le bischette acquate che senza veleno Infatti mi sono posto vestito facendoli capire che Verona All'infuori di Verona, Tifano-Milan Indi per cui ci vediamo più tardi in questa splendida giornata Ciao a tutti Ed eccoci arrivati Mi emozionerò molto più oggi Molto più oggi Giuro Delle divari di ieri Eccoci qua Ecco qua i ragazzi Ecco qua i ragazzi Prima volta che vado a vedere i giovani del Milan Come promesso almeno di giorno posso uscire Di giorno posso uscire quindi Vediamo un po' i ragazzi A dopo belli Sguardo concentratissimi Sono i quarti di finale del campionato italiano 2023-2024 Categoria under 15 Magari E' un po' i ragazzi 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 Dai ragazzi Dai ragazzi Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando E' un po' i ragazzi Ecco qua ragazzi Ecco qua ragazzi Sguardi concentratissimi Primo angolo della partita Dalla destra I nomi non li so Verona in vantaggio Verona in vantaggio Dopo Due minuti neanche di gioco Tre minuti di gioco La prima Verona in vantaggio Dalla destra il Milan prova a rispondere Bello Uuuuh Uuuuh Bravo Sari Sur Dort Sari 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 salutano tutte e due le panchine le squadre ripetiamoci sono i quarti di finale del campionato 2023-2024 categoria under 15 e si inizia sono i quarti di finale Grazie.